Lanciato titolare da Zeman in questa partita, un po' come era successo con la Carrarese, hai fatto il tuo questa sera? Sì, è tutto piacere, sei schiarato titolare, è sempre molto emozionante, stimolante a giocare dal primo minuto davanti ai nostri tifosi, era una partita molto importante, siamo dispiaciuti per il risultato che ovviamente non era quello che speravamo. Cosa è mancato secondo te? Abbiamo avuto due o tre occasioni molto limpide che non siamo riusciti a concretizzare, e purtroppo siamo stati puniti per una piccola disattenzione, ma fa parte della partita, dobbiamo solamente ricompartarci come abbiamo sempre fatto e pensare subito alla prossima. Soprattutto perché avete preso gol nel vostro momento migliore, quando il Pineto sembrava un po' in difficoltà dal punto di vista fisico. Sì, stiamo spingendo molto quel momento della gara, come avremmo dovuto fare per tutti i 90 minuti, ma questo tipo di partite sono sempre così, alla minima disattenzione può essere punito, ma penso che comunque la prestazione in generale sia stata buona, ce l'abbiamo messa tutta fino all'ultimo e certe volte non va come speri.